Ciao, sono la dottoressa Saravilla e oggi voglio parlarti del fucus, un alga che l'oceano ha messo a nostra disposizione per stimolare il metabolismo basale, bruciare più velocemente i grassi ed andare così a regolare il nostro peso corporeo. Il fucus è considerato uno dei rimedi naturali più selettivi in fitoterapia per perdere peso. Infatti le cause del sovrappeso possono essere tante, ma come ben sappiamo, l'utilizzo di un acceleratore del metabolismo unito ad una sana alimentazione e ad una costante attività fisica potranno sicuramente aiutarti a dimagrire. Il fucus, oltre ad essere una fonte naturale di iodio, è un alga che contiene anche altri principi attivi fondamentali per le sue proprietà, bromo, potassio, beta-carotene, mocillagini, mannitolo e oltre ad avere proprietà dimagranti, quest'alga ha anche proprietà nutritive, antiossidanti, diuretiche. In che modo il fucus ha un'attività dimagrante? È un'alga in grado di eliminare tossine, quindi attuando una disintossicazione nel nostro corpo va a dare una grande spinta al nostro metabolismo e di conseguenza il corpo brucerà grassi molto più velocemente. Come altri rimedi fitoterapici il fucus ha delle controindicazioni. È sconsigliato in gravidanza e durante l'allattamento, è sconsigliato a coloro che soffrono di un'allergia verso lo iodio essendo una fonte naturale di iodio ed è sconsigliato a coloro che presentano problematiche alla tiroide e che quindi stanno seguendo una terapia farmacologica. La dose dipende da diversi fattori, tra cui soprattutto il peso e l'età. Il fucus lo possiamo trovare sotto forma di compresse, sotto forma di capsule, sotto forma di tintura madre, quindi gocce da bere. In generale parliamo di una dose che va dalle 20 alle 40 gocce da diluire in acqua e da bere 3 volte al giorno. Se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici e se hai qualche dubbio scrivimi pure, sarò lieta di risponderti. Ciao e a presto!